è veramente la differenza, però, pura mi guardo e tu fai la prima girata di mouse, sai? una girata di mouse, anche se tu fai tutto il combo prima girata di mouse cioè, con uno scatto, pensa, a destra l'ha fatto tutto oggi c'è morale anche qui è, è prima di andare non cassa, non c'è ha dato nessuno oh